Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel solito, usuale, inevitabile, arcinoto, disordine della mia libreria. Allora, cari signori, quest'oggi, in questo video, torniamo a parlare di libri. Ho recuperato due vecchi volumi della Fratelli Melita Editore che, nonostante il tempo passato e nonostante siano per alcuni versi storiograficamente superati, hanno tuttora la loro validità come memorialistica, come base per conoscere il comportamento tedesco durante le invasioni della Polonia, dell'Europa orientale e dell'Europa occidentale durante la Seconda Guerra Mondiale. Parliamo di questi due volumi, Gestapo, Operazioni segrete, primo e secondo volume, ristampati nel 1988 dalla Fratelli Melita Editore che aveva recuperato una serie di collane edite tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Settanta dalla casa editrice Ferni di Ginevra e ne abbiamo parlato più di una volta perché ho recensito anche altre opere della Fratelli Melita Editore che sono la ristampa di queste collane della ferra. Allora, ripeto, si tratta di libri piuttosto datati, questo è vero, indubbiamente. A livello di memorialistica sono tuttora validi però perché parlano di argomenti, diciamo, estremamente interessanti, parlano del comportamento dei tedeschi durante l'invasione della Polonia, durante l'operazione Barbarossa, della Francia, della campagna d'Italia, trattandosi di libri scritti da autori francesi nella fattispecie André Brissot, Fabrice Laroche, Jean Mabir e François d'Orsival, dicevo, si focalizzano soprattutto, anche e soprattutto sulla Francia. È interessante la lettura di questi qui, cioè, allora, mettiamola una cosa, risentono questi libri data la loro età, perché parliamo di libri risalenti alla fine degli anni Sessanta, primi anni Settanta, ristampati dalla fratella Emilita Editore circa trent'anni fa, nel 1988, dicevo, questi due volumi ci parlano essenzialmente dell'impero, cioè, insomma, della struttura della polizia segreta, della capacità di reazione della polizia segreta agli eventuali e sfortunati oppositori del nazismo. La guerra con le spie inglesi, la guerra contro le élite dei popoli occupati, vengono citate conferenze, vengono citati discorsi e conferenze del Führer, vengono narrati episodi della guerra delle spie. C'è, purtroppo, ripeto, visti gli anni in cui sono stati scritti questi libri, ovvero sia verso la fine degli anni Sessanta, primi anni Settanta, c'è ancora, sono ancora permeati dalla leggenda della Wehrmacht innocente, ovvero sia i crimini di guerra tedeschi sono stati compiuti soltanto dalle SS, ma non dalla Wehrmacht. Ora, noi sappiamo bene che questa è una cazzata clamorosa, ma all'epoca, diciamo un 45-50 anni fa più o meno, ci si credeva e ci si voleva credere, perché nel dopoguerra la Germania occidentale serviva e come baluardo contro l'espansionismo sovietico e soprattutto faceva molto comodo dimenticarsi certe cose. Anche se poi dopo, grazie agli studi di tanti storici, anche e soprattutto tedeschi, si è scoperto che la Wehrmacht sapeva e sapeva benissimo quello che combinavano le atrocità, i crimini commessi sul fronte orientale e, tanto per fare un esempio, Cefalonia. A Cefalonia non sono state le SS a eliminare i nostri soldati della divisione Acqui, sono stati quelli della Wehrmacht che non ci hanno pensato due volte a fare quello che hanno fatto. Tanto per dirne una, potete cercare su internet le foto del massacro degli ebrei a Vinnezza, in Lituania. Voi cercate quelle foto, tanto per fare un esempio, sono state trovate quelle foto, sono state esaminate e si è scoperto che tra coloro che assistono senza fiatare all'esecuzione degli ebrei, tra coloro che partecipano anche attivamente all'esecuzione degli ebrei. Non ci sono soltanto i Sonderkommando, ma ci sono anche normalissimi soldati della Wehrmacht, genieri, carristi, addirittura musicanti. Guardate quelle foto. Ok? Allora, comunque sia, tornando a questi due libri, Gestapo, Operazioni Segrete, primo e secondo volume, ci troviamo a che fare con i metodi del nazismo, con la capacità del nazismo di eliminare spietatamente qualsiasi opposizione e di contrastare in maniera feroce, spietata e crudele chiunque osasse contrastare. Poco da dire e poco da fare. Sono citate numerose conferenze di Himmler, numerose conferenze dello stesso Hitler. Sono narrate le testimonianze di numerosi testimoni. Ripeto, i generali della Wehrmacht che parlano tendono sempre in questi libri a riversare tutte le colpe sulle SS, cosa che noi sappiamo ora non essere assolutamente vera. Ripeto. Però si tratta comunque sia di una lettura interessante, di una lettura che ci fornisce spunti molto interessanti su quello che era il regime nazista, sulla Gestapo, sulle SS, sui crimini commessi, sul modus operandi della Gestapo nei paesi occupati. Quindi, ripeto, si tratta di due volumi datati da contestualizzare per quello che riguarda il periodo in cui furono scritti e soprattutto si tratta di volumi che vanno considerati, vanno letti nell'ottica del tempo in cui furono scritti. Hanno tuttora una loro validità come raccolta di testimonianze, come anche fornire alcuni esempi delle idee e dei programmi che i nazisti avevano per la Polonia, i paesi orientali e i paesi occidentali. Ok? Quindi, se vi capita di recuperarli in qualche bancarella, su eBay o su Amazon, io vi consiglio, come sempre, caldamente di leggere. Sono scritti da giornalisti e storici francesi, quindi diciamo che un occhio di riguardo per la Francia c'è. Si tratta, ecco, un'altra curiosità, dimenticavo di dire, sono tra i primissimi libri questi scritti da francesi in Francia in cui si parla della fattiva ed entusiastica collaborazione dei francesi con l'occupante tedesco. Per anni, per anni, i francesi hanno sottaciuto, sono stati molto zitti sulla fattiva collaborazione della Francia di Vichy e di tanti francesi con l'occupante tedesco. Questi libri, scritti da storici e giornalisti francesi, ripeto, André Brissot, Fabrice Laroche, Jean Mabir e François d'Orsival, sono tra i primi libri, libri scritti da francesi che toccano questo dolente tasto della storia dei nostri cugini, chiamiamoli così, d'oltralpe. Insomma, due libri, un'opera in due volumi, tuttora interessante, ma che va, ripeto, contestualizzata in base al periodo in cui fu scritta. Perché quando fu scritta molte cose non le sapevamo, non le conoscevamo, tanti documenti non erano stati desecretati, tanti documenti non erano stati ritrovati. Quindi, 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 quando leggete questi due libri tenete sempre presente l'epoca in cui sono stati scritti. tutto qua. Quindi, cari signori, Gestapo, Operazioni Segrete, editi in Italia dalla Fratelli Melitta Editore nel 1988, un'opera, ripeto, interessante, un'opera che vi potrebbe essere utile per gettare un primo sguardo su che cosa fu la Gestapo, su che cosa fu l'occupazione nazista in Europa dal 1939 al 1945. E, ripeto, ci sono documenti interessanti, alcune considerazioni sono indubbiamente superate dalle nuove conoscenze storiografiche, ok? Ma per il resto si tratta di una lettura interessante e utile. Tutto qua. Quindi, ripeto, cercateli, trovateli, leggeteli, perché, come dico sempre, leggere fa male solo alla vostra ignoranza. Tutto qua. Quindi, cari signori, io, come sempre, vi ringrazio per l'attenzione e, come sempre, arrivederci al mio prossimo video. Buona sera.